Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale L'ex asilo Manfrini è versa in condizioni pessime, in molti lo verrebbero ristrutturato Non credo sia un immobile da lasciare così Il ponticello dell'Arzilla verrà ricostruito ex novo, il sindaco tranquillizza Confcommercio e annuncia la presentazione del progetto Vaccinazioni, scaduti i termini, ora sanzioni per chi non è in regola Passaggi Festival cresce alla regione Stanze a 25.000 euro per la settima edizione del festival dedicato alla saggistica Un anno fa l'evacuazione di massa più imponente che la città di Fanno abbia vissuto dal dopoguerra ad oggi Stasera Fanno TV ricorderà quell'evento con uno speciale Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17 Dunque l'edificio che molti anni fa ospitava un asilo Versa in condizioni penose E in molti adesso chiedono che questo edificio Che si trova tra l'altro in una zona molto trafficata Soprattutto in estate, sta vicino al porto Venga ristrutturato C'è un edificio lungo una delle passeggiate più belle di Fanno Quella in via dello Squero Che per il suo stato attuale guasta un po' l'atmosfera Un po' bucolica certo, ma sicuramente affascinante di questo angolo di Fanno Sedendosi nelle panchine, nei pressi della cosiddetta fontana delle rane Si può ammirare l'imboccatura del porto Il faro, il porto canale Ma avvolgendo lo sguardo a destra Anche di una bella impalcatura Che fa da gabbia ad un edificio di proprietà demaniale Che nell'immediato dopoguerra fu la sede di scuole fanesi E in molti lo frequentarono E l'ex asilo Manfrini E la sua vista in chi c'è stato Evoca ricordi d'infanzia Da ragazzetto, dopo la guerra Ho fatto l'asilo qui all'asilo Manfrini Poi questa scuola Per un fatto che hanno fatto la strada qui dietro In via della Marina Gli venne tolto un pezzo di cortile Lì dove i bambini giocavano E poi piano piano questa scuola L'hanno chiusa Ognuno di noi se scava nei ricordi Ha un flash di quel felice ed innocente periodo Della nostra esistenza In cui le maestre apparivano come fate buone Che si prendevano cura di noi E se ci sforziamo anche Sentiamo ancora l'odore di quei locali E la minestra che ci mangiavamo Tra le mura della scuola Per chi ci ha vissuto in quell'edificio Ora così malandato e fatiscente E che ci ha visto anche i figli entrarci Vederlo così provoca una stretta al cuore Però anche i miei figli hanno frequentato questo asilo E come ho detto prima Ho incontrato un vecchio marinaio Che ora abita in Brianza Che ogni tanto torna a Fano Mi ha detto Dice anche io Perché è più vecchio di me Ho frequentato quell'asilo E tutte le volte che vengo a Fano Vedo questa bruttura E quindi ci tenevo a farlo presente Per voi che l'avete vissuto da piccoli Vederlo così è un dispiacere È un dispiacere certo È un dispiacere grosso Non so Io Tutte le amministrazioni che sono passate L'asilo Manfrini Il vecchio asilo Non dicono niente Quindi Se si può sapere qualche cosa Non credo sia un immobile Da lasciare così Giovedì prossimo Giovedì 21 marzo Il Comune di Fano Presenterà il progetto Del nuovo ponticello Che collega le spiagge del Lido Con quella dell'Arzilla Tranquillizzo le associazioni di categoria I commercianti E gli operatori balneari Ha detto il Sindaco di Fano Seri In questo periodo ci siamo adoperati Per risolvere la situazione Il ponticello verrà sostituito Il Sindaco risponde così Alla lettera della Presidente Di Confcommercio di Fano Barbara Marcolini Che aveva chiesto Un incontro urgentissimo Per chiarire la situazione di stallo Che preoccupano un poco Gli operatori balneari Tra i temi da trattare Tra l'altro ci sarà anche Quello della pulizia della foce L'unedì scorso Sono scaduti i termini Per mettersi in regola Con le vaccinazioni I genitori dei bambini Non in regola Adesso rischiano delle multe Il 10 marzo scadeva il tempo A disposizione delle famiglie Per mettersi in regola Con le vaccinazioni obbligatorie Secondo la legge Lorenzin Da ieri quindi i genitori Che non hanno presentato La certificazione originale Sulle vaccinazioni dei figli Vanno incontro alle sanzioni Previste dalla legge Il dato nazionale però Segna un incremento Della sensibilità alla vaccinazione Soprattutto da parte degli esitanti Che con la legge Hanno dovuto confrontarsi Con la necessità Di approfondire l'argomento E così il dato in generale Dei primi mesi del 2018 Rispetto allo stesso periodo Del 2017 Evidenzia il superamento Della quota a livello nazionale Della copertura del 95% Come soglia minima Di sicurezza indicata Dall'OMS La scadenza di lunedì scorso Affano non ha regalato sorprese A riguardo degli inadempienti Che gravitano sulle strutture comunali Come ci dice anche l'assessore Mascarin Al momento non ne registriamo Il passaggio più delicato Sul tema vaccini È stato all'inizio Dell'anno scolastico 2018-2019 Alcuni di questi utenti Hanno poi intrapreso il percorso Altri via via Hanno rinunciato alla frequenza Delle strutture comunali Quindi in realtà da diversi mesi I bambini che risultavano Non in regola all'inizio dell'anno scolastico Non frequentano le strutture 06 Del comune di Fano E quindi in realtà Diciamo anche La data del 10 di marzo Non è stata una data Che ha portato con sé Particolari criticità Ora però i dati Da parte del Dipartimento Di Prevenzione e Salute Sono ancora in fase di elaborazione Dato che per dare la possibilità A tutti di rientrare Nei termini di legge Ha aspettato sino all'ultimo giorno Prima di inoltrare le richieste di verifica All'Asur Che ora inevitabilmente Si trova nella condizione Di dover verificare Un surplus di situazioni Le posizioni di inadempienza Che stiamo questi giorni segnalando O comunque di non conformità E che ci chiede anche la Regione Sono relativi appunto A bambini che in qualche modo Non hanno un programma vaccinale Ecco completamente ecoralizzato Questo non significa Che non siano idonei Per la scuola Perché ovviamente Se hanno iniziato Un programma vaccinale E questo L'ho avuto modo Anche di spiegarlo Anche di rammentarlo Anche ad alcuni colleghi Ma soprattutto Anche ad alcuni dirigenti Ecco delle scuole Se c'è già in atto Un iter Questo è una situazione Sicuramente idonea Per accettare il bambino Noi non è che possiamo Immaginare di recuperare Nel giro di poco tempo Vaccinazioni Magari anche numerose Non fatte L'importante è che ci sia L'intenzione Alla volontà del genitore Di proseguire l'iter Noi ad ogni appuntamento Diamo un appuntamento successivo E questo rende il bambino Sì ancora non completamente vaccinato Sì in ritardo Ma sicuramente idoneo Ad entrare a scuola Fare impresa Nel periodo di recessione Il titolo di un convegno Che si terrà domani 14 marzo A Palazzo San Michele A Fano Con inizio alle 17.30 L'impresa In periodo di recessione È il convegno Che abbiamo organizzato Per domani Pomeriggio Alle 17.30 A Palazzo San Michele Un convegno Dove vogliamo approfondire Le strategie Che le aziende Possono mettere in campo Soprattutto in questa In questa fase storica Per cercare di aggredire I rispettivi mercati Di riferimento E quindi aumentando Il proprio business Si tratta di un evento A cui parteciperanno Relatori molto importanti Tra cui Massimo Berloni Della Dondap E azionista Di riferimento Tonino Pencarelli Docente ordinario All'Università di Urbino Tommaso Di Sante Presidente provinciale Della Col di Retti E membro della giunta Della Camera di Commercio regionale E Vincenzo Borchia Di Fineco Quindi relatori Che rispettivamente Dai loro mondi Cercheranno di dare Uno spunto interessante Per riflettere su un tema Sicuramente molto sensibile E molto importante Soprattutto per l'economia Nel nostro territorio Che in questa fase Ha bisogno di competenze Idee Per cercare di risalire E quindi di diventare Un fiore all'occhiello La partecipazione è gratuita L'evento si terrà Domani pomeriggio Alle 17.30 A Palazzo San Michele Quindi auspichiamo In una buona presenza Di pubblico Quindi ricordo l'invito E soprattutto Ci farebbe piacere Se tanti potessero essere presenti Perché comunque l'evento È di reglievo E quindi potrebbe essere Sicuramente utile Sentire un approfondimento Di questo livello Adesso parliamo invece Di Passaggi Festival Perché ha avuto Un importante riconoscimento Da parte della regione Che ha deciso così Di aumentare Il proprio contributo Smuovere più della politica Nel panorama letterario italiano Passaggi Festival È annoverato Tra i primi 4 eventi A livello nazionale Più importanti Cresciuto dal 2013 Esponenzialmente Anno per anno Il salto di qualità Lo ha fatto sicuramente Passando dal chiostro Delle Benedettine Alla piazza E poi La consecrazione ufficiale Arrivata con l'ingresso Nel circuito Delle librerie cop Chi è creduto da sempre In questa manifestazione È stata la regione Marche Fin dalla sua prima edizione Passando Da un piccolo contributo Di poche centinaia di euro Ai 25 mila euro Per la prossima edizione Con un salto Di ulteriori 5 mila euro Rispetto al passato Grazie ad una variazione Di bilancio Approvata dal consiglio In cui Una parte fondamentale È stata svolta Dal vicepresidente Minardi Il festival è importante Per la regione Marche Importante anche Per la città di Fano Un evento culturale Che attrae Anche dal punto di vista turistico Credo che doverosamente Abbiamo fatto il nostro dovere Non solo sostenendolo Ma incrementando il contributo Perché festival come questi Che ce ne sono Anche importanti A livello nazionale Hanno dei budget Ben più sostanziosi E quindi La presenza della regione Credo che sia Non solo importante Ma anche doverosa E questo è stato il mio impegno Passaggi è diventato Il più grande evento estivo Dedicato al libro In Italia E le stesse case elettrici Si sono accorte Del festival Ci mandano autori Ci segnalano I libri in uscita Quindi questo è sicuramente positivo È chiaro che il lavoro da fare È tanto Noi ringraziamo Non solo la regione Marche Che ci ha aumentato Il contributo Ringraziamo il comune Ma ringraziamo anche I tanti sponsor privati Che ci danno una mano E naturalmente È una struttura Che è fatta Da una quarantina di giovani Che tutto l'anno Lavorano per il festival E questo è ancora più bello Perché c'è anche Un ambiente molto positivo Pieno di armonia E anche di idee Che Passaggi Festival Riesce ad esprimere I bilanci Delle altre manifestazioni Al pari di questa Hanno bilanci a 6-0 Che fanno termare le gambe Qui da voi È tutta un'altra storia È un'altra storia Purtroppo Perché gli altri festival Senza nominarli Ma insomma Arrivano a bilanci Da un milione Due milioni di euro Noi abbiamo chiuso L'anno scorso Con circa 153 mila euro Quindi come dire Economicamente Non c'è storia Senza il volontariato Non ci sarebbe Passaggi Festival Questo sia chiaro Però cerchiamo Di crescere Piano piano Cerchiamo anche Di avere Piano piano Quella visibilità nazionale Che magari ci permetta Non dico quest'anno Ma un domani Di avere anche Uno sponsor importante A livello italiano Andrà in scena invece A partire da lunedì prossimo Al Pontiamma di Fano La nuova commedia Dialettale Firmata Guitto Dal titolo Peggededaxi Ovvero Peggio di così Vediamo C'è un mistero Hanno sempre bisogno Di un'ambientazione particolare Hanno bisogno Di anche Di un apparato scenografico A volte importante E si sa che le compagnie amatoriali Non hanno sempre I mezzi sufficienti O il budget sufficiente Per affrontare Tutte delle necessità Anche tecniche E così i nostri attori Mentre porteranno avanti La vicenda Che già di per sé È complessa Dovranno pure affrontare Degli incidenti Degli imprevisti Durante la loro rappresentazione E dovranno farlo All'impronta All'improvviso Perché il pubblico È là davanti E non si può interrompere La rappresentazione Come si dice The show must go on E quindi Questo spettacolo Diventa alla fine Un pretesto Per fare un divertente gioco Di teatro nel teatro In cui la compagnia Fondamentalmente Prende in giro se stessa Peggededaxi Quindi È l'affermazione Che fanno gli stessi attori Quando vedono Che tutto il loro lavoro Sta andando un po' a rotoli È come se dicessero Beh Peggededaxi È un po' G Però ovviamente Non è quello Che gli spettatori diranno Quando usciranno da teatro Andiamo in scena Lunedì 18 Martedì 19 E mercoledì 20 marzo La prevendita Parte da giovedì 14 Presso il botteghino Del Politeama Dalle ore 16 E che dire Vi aspettiamo numerosi Per divertirci insieme Mi raccomando Nita Vida È un gial Gial Giale Summer Job Si chiama così La tre giorni Organizzata Dall'Agenzia Giovani del Comune di Fano Per mettere in comunicazione Domanda e offerta Per chi è interessato Ad un lavoro stagionale L'evento centrale È quello del 21 marzo Dove abbiamo organizzato In collaborazione con Quest'anno La tematica È il lavoro stagionale Abbiamo organizzato La seconda edizione Di incursione Il mondo del lavoro Dal titolo Summer Job Abbiamo organizzato Tre appuntamenti 20, 21 e 22 marzo L'evento centrale È quello del 21 marzo Dove organizzeremo Degli job speed date In particolare Abbiamo collaborato Col Consorzio degli albergatori Venendo a conoscenza Di tutte le figure professionali Che stanno cercando Le strutture ricettive Organizzeremo quindi Dei banchetti Il 21 marzo Questo All'interno Della Mediateca Montanari Dove ogni titolare Dell'albergo Avrà la possibilità Di conoscere I ragazzi Che si vogliono candidare A queste offerte di lavoro Quindi organizzeremo Proprio dei piccoli speed day Dei colloqui Dove il ragazzo Avrà la possibilità Di presentarsi Parlare della sua esperienza E cercare di conquistare Questo posto di lavoro Ecco Ci sarà un filtro Un indirizzo Naturalmente Che voi darete A chi si candiderà Sì Naturalmente Aiuteremo tutti I ragazzi A riguardare Personalizzare Il curriculum Proprio per Per l'evento Che proponiamo Perché ricordiamo Che comunque Il curriculum Va personalizzato E studiato Ogni volta Per ogni tipologia Di lavoro Che si cerca E naturalmente Essendo Un speed date 8 minuti Sono pochi Per presentarsi Quindi anche lì Bisogna un attimino Prepararsi Perché in quegli 8 minuti Bisogna Riuscire a dare Una buona impressione E sintetizzare Tutte le competenze Personali Professionali Che si ha Vi ricordo Che siamo aperti Martedì Il giovedì Dalle 3 alle 6 Alle 7 E il venerdì Dalle 10 all'1 Le iscrizioni Sono aperte Fino a quanto? Fino a venerdì 15 marzo Per iscriversi Perché i posti Sono limitati L'iscrizione è gratuita Però bisogna iscriversi Mandando una mail Ad agenzia giovani Chiocciolacomune .fano .ps .it Il 20 marzo Ci sarà un evento Dedicato invece Alle offerte Di lavoro all'estero E a tutti Quegli strumenti Di mobilità Che possono dare La possibilità Ai ragazzi Di andare all'estero A fare esperienze Di lavoro Di volontariato Convitto Alloggio gratuito L'ultima giornata Invece Tratteremo I contratti Di lavoro stagionali Quindi partecipate Tutti i tre incontri Vi aspettiamo Esattamente Un anno fa Il nostro telegiornale A quest'ora Stava Trasmettendo In diretta L'ordine Di evacuazione Per oltre 20.000 persone Residenti Nel comune Di Fano Un'edizione Straordinaria Del telegiornale Che è andata avanti Poi per Quasi tutta La notte Per ricordare Quell'evento Fano TV Trasmetterà Tra poco Dopo il telegiornale Un evento Con degli ospiti In studio Dal titolo Bomba Day Un anno dopo Nel quale Tra l'altro Vi mostreremo E vi trasmetteremo Anche delle immagini Inedite Dalla zona rossa Un anno fa A Fano Succedeva questo Questa mattina È stata rinvenuta Una bomba d'aereo Della seconda guerra mondiale Queste persone Stanno dentro Questi 380 metri Dal punto In cui è stato ritrovato L'ordigno Devono lasciare Le proprie abitazioni Devono andare via È partita Un'operazione Che mai prima Si era verificata A Fano Erano le ore 11 Del 13 marzo Del 2018 Quando all'interno Del cantiere di Aset Sul prolungamento Degli scolmatori È stata rinvenuta Una bomba Da 500 libri Ed ecco Siamo nel punto esatto Dove quel giorno Un operaio Con il suo escavatore Trovò qui lungo La spiaggia Di Sassonia Una bomba Da 500 libri Che provocò Nel giro di poche ore All'evacuazione Di 23.000 persone Dopo i primi controlli All'interno Dell'area Dei lavori Delle forze Dell'ordine E in attesa Di nuovi ordini Dalla prefettura È stato subito Convocato Il centro operativo Comunale Solo qualche istante Più tardi Dopo le accurate Verifiche Sull'ordigno bellico La notizia Che nessuno Avrebbe mai Voluto sentire La bomba Era stata Accidentalmente Innescata Durante l'estrazione Della ghiaia Dalle scavatore La bomba D'aereo MK6 È stata azionata Ma una spoletta Ritardata L'avrebbe fatta Detonare Entro le 144 ore Da lì Il messaggio Alla cittadinanza L'allontanamento Di tutti i cittadini Nel raggio Di 1800 metri Dal ritrovamento Dell'ordigno Chi può muoversi A piedi Prenda Faccia le sue cose E esca di casa Un ricordo Ancora vivo Nella mente Dei fanesi Soprattutto Di chi vive A pochi passi Dal rinvenimento Della bomba Beh ci penso Ogni tanto Sì Perché dicono Scoprissero un'altra Perché ogni tanto Viene fuori Ero sola Mio figlio Non c'era E' passata anche quella E si scoppiava Addio a tutti I sacrifici Di una casa Vabbè E' stato normale Io sono rimasto a casa Senza scappare Ecco Perché mi sa che era stata Una cosa molto Allargata Allargata Poi se scoppiava i vetri Li andavo a ricomprare Abbiando io E' stato il primo D'essere avvisato Un ragazzo Un poliziotto E' venuto Guarda che bisogna Che lasciare Per un'oretta La casa Vabbè In fortuna C'è mia figlia Che sta fuori Sta proprio al limite Dei due chilometri E' impossibile Scoppiare Adesso Sono un po' realistici Adesso il prefetto Ha fatto bene Per carità Però insomma Poi due chilometri Non lascia pure Perché due chilometri E' un po' lontano Il 14 marzo L'Ordigno E' stato trasportato A due miglia Dalla costa Trascorse le 144 ore Il 19 marzo I palombari Del gruppo Subacui Della marina militare Hanno fatto esplodere A largo La bomba d'aereo MK6 3 2 1 Quel giorno L'intera città Ha dimostrato Di saper superare Anche le situazioni Di vera emergenza Ma ora L'unica domanda Che i cittadini Si stanno facendo E' Quanti altri ordigni Ci saranno ancora Inesplosi In quella zona? Allora Chiudiamo qui il nostro telegiornale Ci rivediamo domani mattina Alle 7.30 Con la rassegna stampa Tra poco Le previsioni del tempo E subito L'approfondimento Con il Bomba Day Grazie per aver seguito Occhio alla notizia Arrivederci Grazie per aver guardato